Buongiorno a tutti, ringrazio molto per l'invito in questa splendida sala, fra l'altro che non conoscevo e che è davvero molto bella, in questa città che mi fa vibrare molto, avendo un passato molto antico di violinista, nel senso che quando ero piccolino ho suonato per tanti anni il violino, per poi abbandonarlo, ahimè, però il mio cuore è rimasto molto in questa città. Ringrazio anche per il tema che mi è stato dato, che è un tema molto interessante, quello delle lesioni cistiche e tumor-like, che mi ha portato a cercare di fare un po' una revisione di quello che esiste. Mi sono rifatto a una classificazione che trovate sull'Osborne. Ann Osborne è una collega neuroradiologa molto brava che conoscete tutti e che si è molto dedicata a tutto quello che sono i correlati fra gli aspetti di imaging e la patologia, in particolare a tutta una serie di nicchie, di patologia che erano un po' lasciate, dimenticate, fra cui tutte le lesioni cistiche che adesso vedremo. Come vedete parlerò di lesioni non tumorali, non infettive, con aspetto cistico, con elziologia variabile, da inclusi di elementi embrionari, da insulti, emorragia, ictus, con caratteristiche cistiche, ma che vedremo poi avere caratteristiche di segnale diverse, a secondo del contenuto più o meno concentrato dell'acqua o di altri componenti mucinose. Questa è la classificazione che trovate anche sull'Osborne, in cui si dividono le varianti anatomiche, dalle inclusioni congenite, dalle cisti, da derivati embrionali, dalle ciste misti. Le vedremo tutte, non vi spaventate, su alcune andiamo veloci, su alcune mi soffermo un po' di più. Partendo dalle varianti anatomiche, in particolare dalle varianti che interessano il sistema ventricolare. Alcune sono molto comuni, come per esempio la cavità del cisti, del setto pellucido. Il setto pellucido, sapete che durante lo sviluppo fisiologicamente è cistico, poi dalla ventottesima settimana in poi le due lamine si accollano. Però è molto frequente trovare la persistenza di questa cavità del setto pellucido anche nell'adulto e in alcuni casi l'alterazione non è limitata alla parte anteriore, ma la troviamo anche posteriormente a dare quel quadro di cisti del setto pellucido più cavo unverghe. Questa è la pesatura in T2, la pesatura in T1 dove vedete l'apertura del setto pellucido e poi le sezioni coronali che forse con questa luce non si vedono perfettamente bene, comunque si vede la presenza del setto pellucido che è dislocato dalla cisti. Questo è importante nella diagnosi differenziale perché ci permette di differenziare questa condizione dalla presenza di cisti neroepiteriali oppure dalla genesia del setto pellucido che è una condizione diversa, ma in quel caso ovviamente non vediamo più il setto pellucido. In questo stesso paziente troviamo fra l'altro un'altra anomalia cistica molto frequente che è una variante anatomica, cioè un quadro di megacisterna magna. Sempre sistema ventricolare, posteriormente possiamo trovare un'altra anomalia con caratteristiche cistiche molto frequente che è il cavo del velo interposito, cavo del velo triangolare o cisti del velo interposito, rispetto al cisti del setto pellucido nel cavo un verga è più posteriore, vedete non arriva mai più al davanti della regione del forame di morro e questo vi aiuta a fare una diagnosi differenziale e poi sposta e solleva i due fornici ed è dato da una dilatazione della cisterna appunto del velo interposito. Questa è un'altra condizione molto frequente in cui ci si può imbattere un'area di iperintensità in regione temporale mesiale, sinistra in questo caso. La stessa immagine in una flare coronale ci permette perfettamente bene di capire davanti a che cosa siamo davanti. Questa è una cisti della fessura coridea nella sua sede abbastanza tipica, non fatichiamo a riconoscerla in questo caso, non abbiamo problemi di fare diagnosi differenziale con un glioma, con un DNT o con una lesione che possiamo trovare in quella zona. Qui vedete la pesatura in T1 che ci fa vedere che questa lesione è perfettamente licorale e se avessimo avuto dei dubbi la mappa di ADC che di nuovo ci conferma la lesione licorale. In questo caso leggermente più complesso perché se vedete la lesione è nella stessa sede ma è un po' più grande, è iperintensa in T2, vedete le flare, sembra esercitare un effetto massa sulle strutture circostanti, nelle sezioni coronali comunque riusciamo a vedere molto bene che si tratta di nuovo di una formazione cistica che si trova al passaggio fra quegli spazi cisternali che sono vicini alla regione mesiale del lobo temporale e poi tutta quella strada che rimane, che parte dalla fessura di Bichat, la fessura corridea, fino ad arrivare al socco ipocampale che sono residui dello sviluppo di questa regione del lobo temporale e che spesso possono trovare questo tipo di inclusi che rimangono. Qui vedete delle sezioni di inversion recovery in cui vedete diversi piani coronali di questa alterazione che è visibilmente extraparenchimale e che disloca l'ippocampo verso il basso in sede tipica. Quindi altro esempio di cisti della fessura corridea più grande. Vediamo una lesione che apparentemente è simile ma che come sede è leggermente spostata. La troviamo un po' più indietro e poi se guardate la T2 è molto simile ma se guardate la FLIR vedete che ai margini di questa cavità in realtà c'è un'iperintensità che ci fa pensare a una gliosi e che ci fa pensare che siamo di fronte a qualcosa di leggermente diverso. Questa non è una formazione cistica tipo fissura corridea o bishama questo è un esito poroencefalico di una lesione ischemica nel territorio dell'arteria cerebrale posteriore che ha dato una degenerazione malacica del tessuto e che riconosciamo molto bene nelle sezioni coronali. Vedete che qui non c'è più corteccia e sostanza bianca che è stata persa nell'insulto ischemico. La sede è posteriore, è diversa rispetto a quella che abbiamo prima, non vediamo la corteccia intorno. Questa è un'altra condizione in cui si può cadere molto frequentemente, è importante conoscerla. Vedete che vicino ai corni temporali e quindi a livello della struttura ipocampale ci sono queste multiple piccole cavità, queste sono molto frequenti, soprattutto nell'età più adulta, diciamo così. Sono le cavità del solco ipocampale che sono dei residui del solco primitivo dell'ippocampo che di solito va in controinvoluzione ma in quei casi rimangono queste piccole formazioni cistiche alcuni pensano addirittura che siano degli spazi per i vascolari. Ecco qui li vedete indicate dalla freccia, nelle sequenze FLER si vedono molto bene. Questa è una pesatura in T1 che di nuovo vi fa vedere che non sono lesioni, non sono degli esiti ischemici ma sono delle normali strutture anatomiche e che qui vedete nelle diverse pesature e nei diversi piani dello spazio. Quello che forse non sapete è che c'è una letteratura ricchissima che si è dedicata allo studio di queste cavità del solco ipocampale correlandole con le patologie neurodegenerative, in particolare con l'Alzheimer. L'Alzheimer parte patologicamente con la perdita di cellule nella regione mesiale dell'ovotemporale e quindi si è pensato che l'estrinsecazione di queste formazioni cistiche potesse essere un segno precoce di Alzheimer dato come segno indiretto di depauperamento della componente neuronale ipocampale, cosa che in realtà non è. Per cui c'è molta letteratura ma c'è molta letteratura che vi dice che non sono connesse con la malattia di Alzheimer sono un riscontro molto comune, molto frequente, bilaterale, simmetrico nella sede tipica. Passiamo ad altre condizioni frequenti, di solito facili da riconoscere, gli spazi per i vascolari che conosciamo sappiamo, e questa è un'immagine molto bella dell'Osborne che conoscerete tutti e che fa vedere come in questo caso le perforanti, le lenticolostriate, quando entrano a livello della sostanza perforata verso la regione nuclea della base ma tutti i vasi sono accompagnati da due rivestimenti piali e che fra questi rivestimenti piali c'è del fluido e che questo fluido ovviamente è in risonanza magnetica, lo vediamo, lo riconosciamo e più utilizziamo dei campi magnetici alti più questo fluido siamo in grado di vederlo ed è normale e oltre al fluido vi fisso un attimo l'attenzione su queste espansioni cistiche dello spazio subarachinoideo che sono altrettanto normali e tenetele nella testa e queste sono delle immagini a tre tesla a piano assiale T2 pesate in cui vedete che nella sede tipica troviamo queste immagini iperintense là dove entrano le perforanti ma non solo lì ovviamente le troviamo con caratteristiche diverse, non più puntiformi ma allungate dove ci sono tutti i vasi arteriosi che penetrano nell'encefalo e quindi anche andando verso il vertice riconosciamo tutte queste immagini sono dal puntiforme all'allungato a secondo di dove ci mettiamo a guardarla questa è una pesatura in T1 che ve le fa vedere molto bene questi spazi che accompagnano i vasi nel loro passaggio intracranico e nelle sezioni coronali vediamo questo aspetto a raggera che converge verso il centro che segue l'entrata dei vasi ovviamente nessun problema da questo punto di vista diagnostico, problemi diagnostici ce li abbiamo quando questi spazi sono dilatati quando hanno un aspetto cistico e soprattutto come in questo caso quando sono asimmetrici per cui vedete che nella regione dei nuclei della base qui vediamo dei tipici spazi per i vascolari qua ce n'è uno che è ampliato, è asimmetrico però è nella sede tipica cioè nella parte inferiore della regione dei nuclei della base il terzo è inferiore vicino alle perforanti e quindi non ci preoccupa, non è una lacuna ischemica ma è uno spazio cistico altro esempio che potrebbe averci preoccupato, vedete una lesione cistica a livello del peduncolo cerebrale sinistro ipointenso in T2, ipointenso flare, ipointenso in T1 e qui lo vedete nelle coronali, lo vedete nelle diffusioni ha sempre un segnale licorale e in una sede in cui di nuovo ci sono delle perforanti in cui ci può essere una dilatazione cistica questo è un caso interessante, molto recente perché questo è un paziente venuto per fare uno screening perché aveva un tumore polmonare e quindi una ricerca di metastasi alla TAC si è vista questa lesione cistica nel mesencefere quindi è stata fatta una risonanza magnetica ovviamente il completamento, la sede, le caratteristiche, il completamento con mezzo di contrasto ci lascia tranquilli questo è uno spazio per i vascolari ampiato in alcuni casi la tranquillità è più lontana e qui vedete questa che era fra l'altro è per fortuna perché sta benissimo la mamma di un collega, di un giovane collega che ha avuto un episodio a fasico transitorio ahimè ha fatto una TAC e alla TAC vedete che tutto questo emisfero cerebrale sinistro è caratterizzato da un ampliamento degli spazi per i vascolari che si vede la TAC ma si vede molto meglio in risonanza magnetica quello che colpisce in questo caso prima di tutto è la salienza del rilievo che è decisamente impressionante e poi il fatto che è molto asimmetrico, è solo un emisfero che è interessato al punto che ovviamente è stato fatto un mezzo di contrasto per essere sicuri perché qualcuno ovviamente ha detto che questa era una lesione espansiva questa non è una lesione espansiva questa è qualcosa di più di una variante fisiologica perché siamo al limite fra la fisiologia e la patologia nel senso che quando gli spazi per i vascolari cistici diventano così grandi possono anche dare una sintomatologia di tipo compressivo andiamo oltre, inclusioni congenite la cistia raccinedea la conoscete tutti non vorrei perderci molto tempo le sedi sono molto tipiche la fossa cranica media, l'angolo ponto cerebellare, i sovrasellari, i miste lo spazio sui raccinedea è una trabecolatura molto fitta a volte si formano delle saccature, delle cisti che possono avere dimensioni molto variabili ve ne faccio vedere una nella sede tipica ma piuttosto grande questa è una tipica cisti raccinedea della regione temporale polare che fra l'altro si è ampliata nello sviluppo vedete che la grande ala dello sfenoide è deformata caratteristiche licuarali ha dislocato medialmente l'opercolo frontale la regione insulare, la regione temporoparietale spostando la corteccia ma anche determinato uno scalloping osseo che è tipico di questa lesione licuarale in tutte le pesature e l'aspetto flare queste coronali sono belle perché vi fanno vedere come a volte l'effetto massa possa essere decisamente rilevante nel senso che qui se guardate le strutture della linea mediana c'è proprio uno spostamento verso destra di tutta la regione ventricolare tutta la regione nucleare profonda quindi si può arrivare ad avere un effetto massa molto molto importante e quindi ovviamente una sintomatologia ma questo è un caso abbastanza estremo la cisti dermoide ve l'ha già fatto vedere la collega Catalucci all'interno del quarto ventricolo è una della sede ce ne sono tante altre sellare e parasellare le regioni frontanasale l'aspetto ricordatevi è quello lipidico che vi permette di fare una diagnosi immediata questo è un aspetto tipico in risonanza magnetica di questa grossa formazione che in T2 ha il segnale del grasso nella sequenza FLIR ha il segnale del grasso con una certa disomogeneità anteriore nella pesatura in T1 ha il segnale del grasso quindi in tutte le pesature si comporta come grasso ha il suo effetto massa disloca le strutture intorno queste sono delle sequenze fazzate con saturazione del grasso infatti vedete che il segnale lipidico scompare se somministriamo mezzo di contrasto con una fazzata non abbiamo nessun tipo di enhancement quindi sede morfologia tipica guardiamo un'attacca che ci fa vedere al di là del segnale grasso come a volte possono essere presenti delle componenti calcifiche così come ricordatevi che queste lesioni a volte si rompono e quando si rompono può essere un grosso problema perché ovviamente il materiale va a spandersi negli spazi liquorali fino al sistema ventricolare e può dare una sintomatologia molto importante con dilatazione quadro di idrocefalo importante vado veloce sull'epidermoide perché anche di questo ne abbiamo già visti diversi stamattina non è difficile diagnosticare le sedi cisterne della base angolo pontocerebellare quarto ventricolo emisferi questo è un caso tipicissimo di un epidermoide della cisterna dell'angolo pontocerebellare piuttosto grande per cui lesione assolutamente benigna ma chirurgicamente questa comincia ad essere una lesione non facilissima perché ovviamente sia i vasi sia i vari nervi cranici sono dislocati o inglobati all'interno di questa lesione quindi ci vuole un neurochirurgo come quello che vedrete oggi pomeriggio che sappia fare questo tipo di chirurgia pesatura flare è importante perché se nella T2 l'epidermoide è molto simile al liquor nella flare invece tende ad avere un segnale più alto rispetto al liquor non viene abbattuto immagine coronale che vi fa vedere l'effetto massa e come questa lesione si inglobi e segue gli spazi cisternali la T1 con questo segnale molto liquorale ha l'altra sequenza importante T1 con mezzo di contrasto che ci fa vedere l'assenza di enhancement e infine la diffusione che è importante soprattutto nella mappa di ADC che ci fa vedere come la diffusione non sia libera non siamo davanti a una cisti arachnoidea ma siamo davanti al tumore per l'aceo in cui l'acqua non diffonde a una diffusione ristretta cisti colloidi e cisti neuroenteriche la cisti colloide anche questa l'abbiamo vista e quindi vado via veloce per soffermarmi qualche istante di più su quella neuroenterica la cisti colloide è facilissima da diagnosticare mi viene da dire anche se dopo aver visto il caso che ha appena presentato la collega Catalucci in realtà esiste comunque la possibilità che questa lesione venga equivocata per una piccola emorragia endoventricolare la sede come vi ho detto è tipicissima terzo ventricolo vicino ai fornici soprattutto vicino ai forami di morro sapete che queste lesioni a volte si spostano possono chiudere un forame di morro e quindi possono venire scoperte perché danno una sintomatologia di tipo idrocefalico acuto che può poi venire meno se si risposta aspetto TAC tipico dipendente dal grado di idratazione liperdensità e tipiche aspetto di risonanza magnetica anche questo dipendente dalla componente lipidica e però abbastanza tipica la sede la morfologia di nuovo la vedete nelle sezioni coronali e poi col mezzo di contrasto che vi fa vedere che non c'è nessun enaspent e sede tipica difficoltà poche da questo punto di vista più complessa questa entità della cisti neuroenterica che non so quanti di voi abbiano visto io devo dire ne ho vista una nostra che adesso vi faccio vedere mentre ne ho viste in giro per i congressi non è una condizione così frequente però esiste per cui vale la pena di vederla è una massa rotondeggiante lobulata allungata molto demarcata iper intensa rispetto al liquor la sede tipica a livello midollare ma possiamo trovarla anche in fossa cranica posteriore davanti al tronco può dare effetti compressivi la diagnosi differenziale con l'epidermoide il dermoide la cisti arachnide e lo schwannoma lo vediamo ecco questa è una sede tipica della fossa cranica posteriore vedete questa lesione che è iper intensa che è molto ben demarcata e che si localizza davanti al ponte e al bulbo in sede paramediana sinistra questa è una sagittale che vi fa vedere questa morfologia e anche il segnale che sono tipiche della cisti neuroenterica cioè questa iper intensità ancora la stessa vista nella pesatura in T2 in cui il segnale invece è leggermente più basso rispetto a quello del liquor ricordatevi soprattutto nel midollo potete vederlo in fossa cranica posteriore può dare effetto compressivo e infine le ciste miste e siamo arrivati all'ultima parte della presentazione in cui vediamo alcune entità una l'abbiamo già vista che è la cisti poroencefalica che è quella di prima questa è una cisti poroencefalica da lesione ischemica dell'adulto spesso possono essere da lesioni ischemiche del bambino quindi avere delle morfologie diverse a secondo di dove e come si formano però diciamo non sono difficili dal punto di vista della diagnosi differenziale e considerando gli elementi anamnestici lo sono ancora meno questo lo riconoscete è un plesso corrideo quindi il punto deputato alla produzione del liquor all'interno dei ventricoli laterali del terzo ventricolo del quarto ventricolo sapete tutti che i plessi corridei possono avere un aspetto cistico e questo è un esempio tipico di plessi corridei cistici nella pesatura in T2 li riconosciamo un po' perché se guardate la morfologia di questa regione trigonale è un po' irregolare soprattutto quando ci spostiamo verso le celle medie ci sono anche delle alterazioni della sostanza bianca sottocorticale su base vascolare ma queste non ci interessano in questo momento e questo è l'aspetto tipico che potete vedere invece quando abbattiamo il segnale del liquor si abbatte anche il segnale di questa formazione che contengono liquor al loro interno sono una dilatazione di nuovo parafisiologica dei plessi corridei questa è una T1 di base questa è una T1 con mezzo di contrasto che vi fa vedere che non c'è enhancement o meglio c'è solo l'en enhancement del plesso corrideo adiacente ovviamente la diagnosi differenziale invece dobbiamo farla con quelle formazioni che possono avere natura diversa come il meningioma che però ha caratteristiche diverse piuttosto che il papilloma del plesso corrideo piuttosto che i processi infettivi dei plessi che però di solito hanno un enhancement e una morfologia ben diversa così come di solito non abbiamo grosse difficoltà quando ci troviamo a fronteggiare un'altra variante molto frequente che è la ghiandola pineale cistica la troviamo spesso a volte piccoline a volte più grandi a volte esercitano un po' di effetto compressivo sulla lamina quadrigemina tendono ad avere un segnale liquorale come in questo caso di solito non hanno enhancement periferico ma ci possono essere delle cisti della ghiandola pineale in cui c'è un rinforzo periferico addirittura ci sono dei casi in cui se voi fate uno studio col contrasto tardivo la parte centrale della cisti può assumere mezzo di contrasto queste sono immagini coronali purtroppo non si vedono benissimo della stessa cosa e questa è un'immagine in flare che vi fa vedere come in flare a volte anche di fronte a una ghiandola pineale cistica ci possa essere un po' di concentrazione proteica che vi cambia il segnale che non è più licorale questi sono altri esempi di ghiandole pineale cistiche più piccole tipiche che a volte possono essere pluriloculate fanno parte dello spettro di variabilità normale non pongono grossi problemi di diagnostica differenziale che deve essere fatta principalmente con lesioni di questo tipo la sede è esattamente la stessa ma vedete che la caratteristica è diversa non abbiamo un aspetto cistico abbiamo l'aspetto di una lesione solida tenuamente iperintensa in T2 nella flera ipointensa in T1 sede gli andola pineale cistica un effetto compressivo sui tubercoli quadrigemini superiori che è molto più evidente un iniziale stenosi dell'acquedotto di silvio e soprattutto un enhancement precoce molto forte siamo di fronte a un pinealocitome in questo caso cisti neroepiteriali sono l'ultima cosa che vi faccio vedere forse una di quelle più interessanti più divertenti più carine da trovare si trovano si vedono sono entità cistiche circondate da epitelio neurogliali o neorependimali possiamo trovarle nel parenchima o all'interno del sistema ventricolare vi farò vedere quelle all'interno del parenchima sono prive di enhancement periferico non hanno gliosi circostante le dimensioni sono variabili possiamo trovarle più frequentemente nei lobi frontali ma anche nei lobi temporali o comunque ovunque la diagnosi differenziale con la cisti poroencefalica con l'ampliamento degli spazi perivascolari con le cisti arachnidee e le epidermoide e le cisti infettive questo è un esempio di una piccola cisti neurogliale del polo temporale destro la vedete licorale in T1 licorale nella FLIR licorale nella mappa di ADC perfettamente cistica tonda perfettamente in mezzo al tessuto cerebrale e questo è un esempio invece più estremo dell'aspetto che possono avere questo tipo di cisti addirittura in questo caso viene a voglia di pensare a una cisti ependimale ma in realtà come vedete questa formazione si trova fuori dal sistema ventricolare è vicino ma è fuori è dentro il parenchima e ha limiti perfettamente netti e licorale in tutte le pesature e si associa ad un'altra alterazione che è probabilmente una cisti a raccoglione anche questa con un effetto massa importante quindi un difetto più complesso dello sviluppo di questo encefalo vedete un altro caso ampia raccolta cistica perfettamente lineare perfettamente senza enhancement periferico perfettamente licorale con effetto massa di solito questo tipo di formazioni non cresce nel tempo e di solito tende a non dare sintomatologie anche se a volte quando sono molto grosse possono dare una sintomatologia da effetto compressivo questa è la mia ultima anzi la penultima immagine che serve a ricordare alcune delle cose che sono state dette anche da chi mi precede con la risonanza magnetica abbiamo più possibilità rispetto all'attacca per tutto questo tipo di diagnostica abbiamo la possibilità di studiare le alterazioni con pesature diverse t1 t2 flare con piani diversi abbiamo la possibilità di utilizzare le sequenze di diffusione e ricordatevi di utilizzare sempre non solo le immagini di diffusione ma anche le mappe calcolate di adc perché vi toglie l'effetto dello shine true per cui di non vedere delle iperintensità che non sono vere e poi abbiamo il mezzo di contrasto che ci aiuta quando abbiamo dei dubbi nel trovare l'assenza di danno di barriera nell'ultima diapositiva vorrei ringraziare Valeria Scortichini che è in sala ed Elisa Scola che mi hanno aiutato molto nel trovare queste immagini di nuovo il dottor Olivetti per l'invito e voi per l'attenzione grazie